Il presidente della regione toscana Enrico Rossi ha chiesto poteri straordinari al governo per poter gestire in tempi rapidi la messa in sicurezza a Livorno dopo il terribile nubifragio che ha messo in ginocchio la città, lagato le case e le strade e provocato sette morti, quattro dei quali membri della stessa famiglia, padre, madre, un bimbo di quattro anni e il nonno. Ma il bilancio potrebbe aggravarsi con un uomo ancora disperso. La richiesta è stata presentata da Rossi al ministro dell'ambiente Gianluca Galletti durante il vertice, convocato nella sede della protezione civile per fare il punto sui danni e gli interventi. Il presidente intanto ha dichiarato lo stato di emergenza e ha annunciato lo stanziamento di 3 milioni per la ricostruzione. Nell'immediato la priorità è la ricerca di chi manca all'appello e l'aiuto alle persone. Non si deve lasciare solo le famiglie. Stiamo studiando poi dove portare i rifiuti perché questo è l'altro punto. Sono in corso i lavori per sistemare e ripulire i rii, se li sta facendo il genio civile. L'usione intanto è stato tamponato, l'acqua non va più nelle case e i lavori continueranno per il ripristino dell'argine. Indispensabili per la messa in sicurezza dell'area livornese a Detto Rossi sono gli interventi sul Lugione, il Rio Maggiore, il Rio Ardenza e il Chioma, i quattro corsi d'acqua responsabili degli allagamenti e su cui a Detto Rossi è stata effettuata da poco la ripulitura da parte del consorzio Costa Toscana. Intanto nella zona colpita dagli allagamenti sono tante le forze in azione. C'è un impegno molto forte delle istituzioni, della protezione civile regionale e anche di tanti volontari che stanno accorrendo dalla regione della Liguria e da quella dell'Emilia Romagna che ringrazio. Arriveremo a 400 unità, oltre ai 108 vigili del fuoco, a 80 paracadutisti, quindi uno sforzo enorme, tanti mezzi in campo per cercare di ripulire le zone e riportare il più possibile alla normalità. In attesa che questa normalità torni si lavora per cercare una soluzione abitativa a chi non può rientrare in casa, nel pomeriggio Rossi ha incontrato il capo della protezione civile Angelo Borrelli per presentargli il quadro completo degli interventi da realizzare.